Ti sto dicendo, quello che mi riferivo io è quando lei usciva da sola per i fatti suoi, che sia con una sua amica, con un suo amico o con un tuo parente, magari col parente sì, ma lei mi ha detto che non poteva fare niente. E ti ha detto ma... Ah, ok, quindi... Scusa, ma ti l'abbiamo portata davanti a tutti. Sì, ma non abbiamo mai detto quello che sta dicendo questo. È diverso quello che sta dicendo. No. E vabbè, ma io e lei ci siamo conosciuti. Poi se tu hai raccontato una cosa diversa... Ma guarda, quello che hai raccontato qua lo hai raccontato anche a lui. Ma hai raccontato anche al programma. Cioè, penso che ormai la nostra storia la sanno tutti. I problemi, qual era la gelosia, ormai la sanno tutti. E appunto, proprio perché la sanno tutti, sinceramente, se sento dire segregata o rinchiusa oppure che stava a casa a fare l'acqua e il cotone, sinceramente non è la stessa storia che ho vissuto io. No. E le persone che ci stanno con noi, e lei potrebbe confermarlo. Ma che insieme facevamo tutto, sì, era sempre il fatto della mia vita personale da sola, con le amiche, di fare qualcosa da sola. E quando, anche mi attacco alla cosa che hai detto tu, che quando tu andavi a mangiare la pizza io stavo a casa, questo è vero. Io la sera andavo a mangiare la pizza. Ah, tu hai detto io non sono andata a mangiare la pizza. Ho detto io la sera non sono mai uscito da sola. Quante volte sei uscito con gli amici, ma che non era un problema. Ma non è vero. Però ho visto che comunque io non avevo amiche, quindi rimanivo a casa, capito? Era questo il senso. Grazie a tutti. Grazie.